12 dicembre 1963. Giulio Natta, professore di chimica al Politecnico di Milano, riceve insieme al collega tedesco Karl Ziegler il premio Nobel per la chimica. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze li premia per le loro scoperte nel campo della chimica e della tecnologia dei polimeri. Dalla loro scoperta prende vita il brevetto del Moplen, un materiale plastico con caratteristiche rivoluzionarie, ancora oggi largamente impiegato nell'industria idrosanitaria e di casalinghi.